E se girassi e montassi un video con un Macbook pagato 20 euro? Ho trovato un annuncio di un Macbook del 2008, non funzionante, a 20 euro. C'era scritto che in nessun modo si riusciva ad installare il sistema operativo. Quasi convinto di poter sistemare questo problema, decido di comprarlo. 20 euro! Mi sono messo a cercare il CD originale di installazione, l'esatto sistema operativo con cui è uscito questo computer. Dopo mesi di ricerca ho trovato questo. Metto il CD, l'installazione parte, parte tutto e... Installazione riuscita. Ma andiamo al video. Mi è venuto in mente di creare prima una canzone da zero, utilizzando Logic Pro, e mi sono messo a creare la canzone a cappella, utilizzando solo i suoni della bocca. Per fare il video, invece, acquisisco il filmato direttamente dalla webcam del computer. Inizio a registrare tutte le varie parti di me. Ho fatto il montaggio e è uscito fuori questo video. e ho visto...